Conoscere la nostra storia, stabilire un contatto con l'agenda del posto e raccogliere informazioni preziose sulla nostra cultura. La loro presenza, oltre a stimolare le attività didattiche, formative e arricchire la vita della comunità studentesca, rianimerà e vivacizzerà la cittadinanza, e su questo non lo dubbi. Speriamo pertanto che i nostri ospiti possano unirsi alle tante persone dalle tante persone che già da anni sono state rapite dalle nostre bellezze storiche, artistiche e culturali. Over the years have been abducted on our beauty, countryside, sea, and historic center.